Allora, buonasera, benvenuti a questo piccolo video che è ambientato su Edmondo Edmondo è una grid OpenSIM gestito da Ansas Indire per il Ministero dell'Istituzione Italiana dove possono entrare solo gli insegnanti e eventualmente le loro classi per chi fosse eventualmente interessato basta andare su questo indirizzo scuoladigitale.it Edmondo, progetto perché Edmondo dove vi spiega come funziona funziona per le scuole elementari, medie e superiori e c'è anche la possibilità di accedere se siete degli insegnanti quindi c'è una mascherella dove spiega come si fa ad accedere comunque veniamo a questa SIM che è fatta da un insegnante, Maria Messere vedete che questa SIM ha ricostruito l'insegnante una scuola, un campo da calcio e addirittura ha ricostruito in lontananza anche un faro eccolo qua, un faro che probabilmente è nella città in cui insegna ma quello che vogliamo vedere adesso è semplicemente uno script perché questo è un piccolo video di scriptino vedete che la scuola è strutturata a piani dentro ci sono tutte le aule interessanti e c'è questo ascensore esterno costruito che ha piano terreno, piano piano, secondo piano e poi c'ha finalmente il tetto abbiamo fatto uno script che permette di girare sui vari piani qui c'è uno script semplice, apertura e porta e qui abbiamo finalmente lo script che permette di andare nei vari posti semplicemente se manca la pedana si può chiamare e in questo caso la pedana arriva adesso c'è già se non ci fosse arriva proprio come un ascensore normale dopodiché ci si siede qua sopra e si sceglie il piano dove andare quindi se andiamo al piano 1 vedete che l'ascensore si sposta al piano 1 poi si può alzare si può visitare il piano 1 se si vuole andare su un altro piano si si siede di nuovo e si sceglie ad esempio di andare al piano 2 ecco ovviamente se non siamo al piano quindi se vogliamo far arrivare l'ascensore a un piano specifico possiamo anche cliccare vedete qua e questo produce praticamente vedete che è arrivata la panchina lì sopra quindi questo è lo script che vorremmo andare un attimo a intervistare vedete che lo script è composto dal punto di vista di building della pedana questa qui che sta arrivando la pedana che è scriptata ed ha una serie di placchette che permettono di chiamarle la pedana l'ascensore allora lo script su questi oggetti non li posso vedere ma posso prenderli le copie mie locali e quindi prendiamo ecco questo qui l'ascensore la pedana dell'ascensore vedete che è una pedana molto semplice solo un cubetto cioè una specie di cubetto cuboide e questo qui ha uno script che adesso andiamo velocemente a esplorare quindi andiamo sul contenuto ascensore multipiano ed ecco allora questo script in realtà è uno script open source vedete che è stato creato da Jeff Heaton l'ha fatto in un libro ISBN e questo libro è stato scritto nel 2007 e questo libro può essere c'è questo script può essere copiato e modificato fin tanto che si mantenga questa intestazione e c'è anche un indirizzo HTTP a quel riferimento allora descriviamo un attimo questo script vedete che lo script fondamentalmente ha all'inizio varie cose fra cui la velocità con cui va diciamo 2 quella che avete visto se la aumentate dovrebbe andare credo più veloce il menu main che indica quali sono i piani su cui deve andare che devono essere anche i nomi delle varie bottoniere e i piani quindi piano 0 piano 1 piano 2 e tetto in questo caso una lista di coordinate dove si mettono le altezze relative in cui si vuole far arrivare la pedana quando si sceglie piano 0 piano 1 piano 2 tetto poi si dice qual è il canale di lavoro 45 in questo caso in cui le varie pulsantiere dialogano con la pedana questa botta adesso non serve più era nello script originale ma adesso l'ho adattato perché nello script originale c'era un piano di base e poi piani di altezza uguale invece in questo modo voi potete avere piani ad altezza diversa quindi è molto semplice da configurare come vedete basta mettere la pedana e basta impostare le scritte e poi lui fa tutto il principio di funzionamento è che quando entra lui imposta dunque scolta sul canale per vedere se qualche bottoniera lo chiama imposta un sit target e questo è quello che eventualmente potreste volere cambiare per modificare il punto in cui ci si siede e questa è la rotazione quindi se vedete che l'avatar è ruotato male potete trasformare adattare qui ah qui c'è un piccolo errore per cui c'è scritto 90 pensando che sia in gradi ma in realtà è in radianti quindi dovreste eventualmente mettere il valore esatto in radianti e non 90 che c'è scritto qua e l'L7 test è quello che fa vedere il testo sopra questo target per il momento non serve non si usa e qui vediamo cosa fa quando finalmente qualcuno gli dice si viene ascoltato da una pulsantiera o dal menu di andare a uno specifico piano allora lui dice questo received che è un debug si può anche togliere e poi fondamentalmente va a cercare il messaggio che indica il piano nella lista se lo trova allora si indirizza verso quel piano va a vedere le coordinate dalla lista che c'è qua adesso non stiamo a dettagliare in questo piccolo video le liste ma come vedete è un modo per poter raccogliere degli argomenti quindi poter poi fare fare in montale e farli coordinare quindi piano 0 coincide c'è il primo elemento di menu main corrisponde al primo elemento di chord e così via in realtà partono con l'indice 0 quindi piano 0 sarà effettivamente l'indice 0 e così via quindi quello che viene fatto è quello di cercare nel nome del piano il nome del piano viene cercato quindi questo messaggio il nome del piano nella lista di tutti i piani dove viene tornato un indice da 0 a n-1 se è maggiore di meno 1 quindi maggiore uguale a 0 allora si può andare e si prende si prende dalle coordinate gli esimo coordinata e si va nello stato moving qui funziona anche facendo il touch oppure anche quando si fa il change change funziona quando uno si siede fondamentalmente quindi questo è l'effetto del sedersi cambia qualcosa nel primo quando si muove qui abbiamo una piccola animazione abbiamo un timer un timer che funziona ogni decimo di secondo e ogni decimo di secondo il timer cosa fa? prende la posizione attuale verifica se non siamo arrivati al target se siamo sopra del target cerca di abbassarlo se siamo sotto il target cerca una posizione un po' più alta dopodiché fondamentalmente il cuore del programma è quello di fare un LL set pose per arrivare quando è arrivato all'obiettivo cioè se la differenza LL FAMPS di pos.z è minore di un certo valore allora vuol dire che siamo arrivati altrimenti continuo a fare LL set pose e poi questo timer continua a scattare ogni ogni decimo in secondo quindi produce il movimento quindi questo è lo script dell'ascensore che adesso poi metterò su poste bin e aggiungerò al video quindi potrete vederlo mentre invece lo script associato alla prendiamo qua alla pulsantiera ecco questa non la posso vedere quindi devo prendermi una pulsantiera mia dunque objects prendiamo ecco questo qui è un pulsante tipo il piano 0 vedete che l'ho fatto così e lo script della pulsantiera è in realtà ancora più semplice perché ha uno state entry in cui viene impostato lo scritta che sta sopra la pulsantiera e qui viene messo col colore bianco full cioè non trasparente e quando viene toccato si limita semplicemente a urlare sul canale 45 il nome della questa pulsantiera che a questo punto la pulsantiera deve essere chiamata con il nome giusto quindi in questo caso piano 0 perché lui lo dice e quindi facendo questo si riesce ad andare ok quindi fondamentalmente la magia è quella di disporre questa pedana di impostare lo script calcolando le posizioni di mettere le varie pulsantiere e a questo punto il gioco è fatto quindi adesso se volete potete farvi anche voi i vostri ascensorini e con questo direi che praticamente questo piccolo video è tutto e grazie a Maria per averlo inserito nella sua scuola e a Edmondo saluti grazie a tutti